Siamo a caccia dei gormiti, Ruben sta prendendo il suo libro magico, cosa dice? Avanziamo, venisi intanto, tu vai avanza e guardate bene nei cesculli da tutte le parti. Con tutta la ricerca che sono nascoste di una caccia, sono nascoste di una caccia, l'hai sentito? Vai, leggi quel libro, vedi cosa dice. Vai avanti, non perdiamo tempo. Fermo, Ruben, ho visto qualcosa. Cercate nei cesculli, loro si mettono vicino ai cesculli, andate attorno ai cesculli. Ruben, venite qui, questa è la zona. Ne avevo visto uno, l'hai scappato. Ruben, dammi questo libro un attimo. Ne avevo visto uno, l'hai scappato, papà. Questo è il libro magico, dice di guardare attorno ai cesculli, guardate bene, cercate a terra nei cesculli. Ne avevo visto uno in quel cesculli. Cerca nei cesculli, Ruben, vicino al cescullio, vai. Questo? Quello, sì. Ne avevo visto uno in quel cescullio. Vedi a terra, a terra devi guardare. A terra, gira ancora, piano piano, gira e guarda a terra. Qui, 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 Ciccio, che roba è? Prendilo e metterlo in borsa, prendilo, quello è un gormita. Prendilo, Ciccio. Apri la borsa, apri, togli, non toccare. Mamma, metti dentro. No, quello è un gormita, chiudi subito, che scappa, andiamo. Continuiamo, guardate nei cesculli. Guardate nei cesculli, per favore, tieni, è il libro magico. Continuiamo, continuiamo la ricerca. Trovati, dovete vedere bene i cesculli, maledizione. Sono i cesculli, tutti i cesculli dovete guardare. Tutti, tutti? Tutti, tutti quelli che vi trovano, perché anche dobbiamo scappare, che quello l'amo inizia il corso di allarme. Ma non c'è n'è in questo. Guardate bene attorno ai cesculli, attorno, a terra. Papà, c'è uno spinore. A terra, a terra. Vieni, vediamo, Rubè, 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 Rubè. Prendilo, prendilo, mettono, prendilo velocemente, eccolo lì. Se la scappa, se la... Rubì. Non so, mamma, non so, mamma. Si trasformano, non c'è, qui sono liberi, non si è, questi sono pure loro, non hai capito, Denise? Papà. Non hai capito che è tutto vero? Mettila dentro, muoviti, che stanno avvisando gli altri. Maledizione. Rubè, i cesculli, dovete guardare attorno ai cesculli, attorno, bene attorno. Rubè, vieni a queste parti. Giratevi bene questo cescullio, per terra. Giratevelo bene. Un altro, subito dentro, subito. Ma hai visto quanto ne stai trovando, Ciccio? E già sono qui. Tutti, andiamo a vedere più avanti. No, qua ci stanno gestculli. Qua, qui, Ciccio. Anche sugli alberi possono essere. Ciccio, guarda che c'è lì, guarda. Ciccio, aspetta, che faccio una ripresa. Guarda che c'è, vieni, apri subito la cosa, guarda. Mamma mia. Anche sugli alberi. Anche sugli alberi stanno, metti dentro. Subito, subito. Adesso dobbiamo scappare. Ehi, ehi, via, via adesso, via che... Ho sentito il suono di allarme. Dobbiamo scappare, Ciccio. Subito. Subito, Ciccio, basta cercare. Andiamo avanti da me. Avanti a me, avanti a me. Dai, andate avanti. Andate davanti. Andate davanti. Ciccio, non perdete più tempo, non perdete più tempo. Di qua. Dove andate? Dove andate? All'uscita, Ciccio. Se no ti rapiscono. Forza, Ciccio, uscire, non cercate più. Quando io vi ho detto uscire, uscire, poi torneremo un'altra volta a cercarli. Aspettatemi fuori che è pericoloso. Ci chiudono qui dentro. Ci chiudono. Fammi memorizzare la zona. Questa, quindi, è una parte dei gormiti terrestri. Andiamo negli altri? Non possiamo, si può aprire. Questo qua, quindi questo qua. Ecco, i gormiti. Mamma, quanto è grosso questo! Ma questo deve essere il re dei gormiti, Ciccio. Sì, è vero. Abbiamo catturato il più grosso, mamma mia. Mamma, forza, forza. Dai, forza, vediamo gli altri come sono, Ciccio. Questo, questo. Quello che abbiamo catturato nell'arbero. Mamma mia, che grossa caccia. Mamma, questo è proprio brutto, eh. Mamma. Ma questo è un uccello. Mamma mia, che gormiti tremendi. Mamma mia, e questo chi è? Che tipo di gormita è questo? No, non ce ne è più. Va bene, Ciccio. Quattro soli ne abbiamo presi. Andiamocene, Ciccio. È meglio che questi qui poi chiedono aiuto e ci trovano. Ce ne andiamo, che dici? Sì, sì, andiamo a farci. Sì, andiamo a farci. Sì, andiamo a farci. Grazie a tutti.